ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale oggi parliamo di zero calcare di una novità anzi di una semi novità perché gran parte di queste uscite calcare già le conosciamo però c'è un nuovo libro in uscita il nuovo libro che uscirà di zero calcare è incentrato sul versante reportage sul versante più inchiesta ed è quel fumetto che va a riprendere tutta la storia che ha pubblicato settimanalmente su internazionale dedicata a ilaria salis e ai 19 antifascisti che sono stati secondo molti secondo anche me ingiustamente processati incarcerati per un tempo nelle carceri della in ungheria a budapest il nuovo libro di zero calcare che si intitolerà questa notte non sarà breve che va a riprendere appunto le uscite settimanali di internazionale viene confezionato in un unico volume da momo edizioni una casa editrice indipendente e che porta anche nel progetto delle pagine inedite ilaria salis e che come sapete da qualche giorno rispetto a quando giro il video è tornata in italia e quindi evidentemente hanno deciso di confezionare a far uscire il tutto in un unico progetto interessante nel mentre parlo vi faccio vedere sia delle tavole sia delle cose carine tra cui anche la copertina anzi ve la faccio vedere subito di questa notte non sarà breve questa è la copertina di momo edizioni molto carina ovviamente è un progetto che non è targato bau publishing quindi non avrà quella battaglia pubblicitario che ha avuto ad esempio quando muo di resta me perché è chiaro ed ovvio che sono due fazioni differenti quando muo di resta me è zero calcare di finzione di fiction per intenderci questa notte non sarà breve è zero calcare inchiesta quindi grafic giornalismo e quant'altro come preferite chiamarlo zero calcare quello impegnato politicamente socialmente non che negli altri non lo sia però qui si evidenzia di più il fattore appunto di impegno sociale tanto di cappello a zero calcare questa è la copertina vedete momo edizioni in basso al centro e con questi ragazzi in centro appunto che vanno a quasi a lottare a schierarsi contro queste due ombre c'è questo cartellino sotto film the mall che dovrebbe significare liberiamoli tutti e il titolo questa notte non sarà breve zero calcare quindi un'edizione carina la trovate sul sito appunto di momo edizioni vi faccio vedere anche lo screen del sito e uscirà rispetto a quando giro il video il 24 giugno 2024 quindi molto probabilmente dal sito potete già accedere non è in preordine però penso che aspettaranno la data di uscita ufficiale nel senso il 24 lo metteranno online non si sa ancora il prezzo non è uscito però secondo me una per chi ama zero calcare al di là della finzione secondo me dovrebbe essere preso per un solo motivo che vi spiegherò a breve allora questa notte non sarà breve dicevamo usciva settimanalmente su internazionale a episodi per aggiornarci e raccontarci del processo sull'area salis sempre detto che questo canale è antifascista e ahimè chi ma chi sta bene bene chi no non ci posso fare niente qualcuno diceva ma che c'entra la politica con i fumetti beh la politica con l'arte ha sempre centrato e c'entra da sempre quindi anche fumetti essendo arte e centrano sempre con la politica quindi questo canale sarà sempre comunque antifascista amen punto detto ciò perché dicevo importante questo fumetto perché magari qualcuno malpensante penserà scusate il gioco di parole a ora zero calcare si fa i soldi anche con con questa storia sull'area sales beh perché conosce zero calcare e chi conosce banalmente c'è chi conosce ovviamente da un punto di vista no letterario biografico storico non personalmente non lo conosco personalmente ma basta poco per capire la coerenza di zero calcare e nella sua vita quotidiana questo fumetto e io ne avevo quasi la certezza al di là che del fatto che lui abbia scelto appunto una casa indipendente ed esce meno in sordina rispetto appunto a quello che sono riuscite di bau publishing quindi le uscite più confezionate più commerciali di zero questo caso michele rec decide di al di là delle spese di produzione nella casa editrice di stampa distribuzione tutto il ricavato del resto della vendita andrà in beneficenza e è questa è una cosa bella che ovviamente non tutti non tutti fanno anzi vi faccio vedere verrà vi faccio vedere questo questo scritto che mi è arrivato tramite la newsletter della casa editrice e lo leggemo insieme il nuovo libro di zero calcare sarà perso disponibile il 24 giugno pubblicheremo il nuovo libro bla 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 allora scrivono riuniti e non unico volume tutti i fumetti che zero calcarea dedicato alla vicenda di ilaria salis la militante antifascista che è stata detenuta in ungheria da più di un anno e agli altri 19 antifascisti sotto processo il libro contiene quattro pagine inedite questo fumetto tra l'altro servirà a finanziare con parte del suo prezzo di copertina come dicevo tolta la parte di copertura delle spese una cassa di solidarietà in supporto ai compagni e alle compagne coinvolti nei processi è chiaro bisogna essere molto sensibili bisogna essere sicuramente antifascisti e bisogna essere sicuramente di sinistra per accettare queste queste visioni nel senso ben venga chi lo faccia diversamente non per forza questa situazione deve essere etichettata come di sinistra comunismo o per forza antifascismo nel senso chi ha la sensibilità di fare un passo importante per le cose giuste quindi tralasciare e lasciare abbandonare le ingiustizie allora ben venga lo faccia al di là dei miei pensieri che sono praticamente i miei e soggettivi invito chiunque voglia farlo ovviamente a chi ama chi legge zero calcare ad acquistare anche questo così magari si può oltre alla bellezza narrativa di zero calcare in questo caso si va a scoprire anche michele rec quello attivista se non lo conoscete appunto vi consiglio di farlo tra l'altro vi metto il link in descrizione di una breve guida critica delle storie di zero calcare che abbiamo scritto su ubici fumetti sul magazine e la trovate qui in descrizione nel link sotto il video fondamentalmente ecco serviva di leggerla che è molto interessante va a delineare appunto zero calcare da da questo punto di vista sulle storie brevi di reportage di graphic journalism per intenderci quindi date lì un'occhiata detto ciò io molto probabilmente lo prenderò molto probabilmente lo leggerò è molto probabilmente lo porterò anche sul canale per farvelo vedere questa era una diciamo una segnalazione giusto per raccontarvi questa uscita è la sua gestione in maniera molto molto fugace niente di che che dire fatemi sapere se lo prenderete cosa ne pensate soprattutto e vi ricordo che se scrivete commenti siate sempre corretti e rispetto corretti e rispettosi nei confronti di tutti non siate come molti come dire infuocati senza senso ma è giusto che sia così detto ciò condividete il video con chi ama zero e con chi ha a cuore questa situazione per il resto ciao a tutti al prossimo video